all'interno del Parlamento. Poi il 7 marzo andremo a dirgli, qui ci sarà la dottoressa Bruschettini e Giacomeri. Bruschettini appunto riprenderà il tema dei percorsi religiosi, invece Giacomeri dove mi si è nascosto, che è un ingegnere, che illustrerà e farà vivere le emozioni legate a un gioco tradizionale storico della frazione di Tiri, che è la palla e quella che si è portata alla pallina. Speriamo che non la vini a qualcuno perché è abbastanza... E anche il costruttore di palline di Tiri. Ah ecco, mi hai portato tutta la struttura. La palla è una palla...